Da capogruppo a dissidente nel giro di alcuni mesi, un divorzio che era nell'area da tempo ormai e che proprio nell'ultima settimana si è concretizzato. Poca democrazia, nessun confronto con gli eletti e decisioni calate dall'alto. Sarebbero queste le motivazioni che hanno portato l'ormai ex azzurro Luigi Di Dio a dire addio a Forza Italia. Questa è una cosa che viene maturata già da diversi mesi, perché in Forza Italia già c'era uno scontrarsi continuo e anche su valutazioni sul fatto che non c'è democrazia all'interno di Forza Italia. Forza Italia non è un partito, non si riunisce, Forza Italia non ha una sede a Gela, è soltanto una filiale dell'onorevole Manguso che decide chi deve fare il segretario provinciale, chi deve fare l'assessore, chi deve fare il segretario cittadino. Sono tutti nominati, nessuno è stato eletto democraticamente in quelle funzioni. Io mi ero speso perché a Gela dovevamo costruire insieme ai ragazzi che si sono spesi nel progetto di dare un'azione amministrativa alla città. Questo non è stato possibile farlo perché le cose vengono calate dall'alto, quindi prendiamo contezza di tutto ciò e non possiamo fare altro che dare spazio a chi vuole contribuire con loro in questo percorso. I più maligni dicono che questa rottura sia legata al fatto che nel momento del rimpasto sia stata riconfermata l'assessore Gnoffo e non si è dato spazio a Francesca Caruso che doveva essere una degli assessori potenziali Forza Italia e che era tra l'altro sponsorizzata tra virgolette proprio da Luigi Iddio. Quanto c'è di vero in questo? Questo è completamente falso perché noi a ottobre quando c'è stato il rimpasto abbiamo avuto una riunione e si era deciso di riconfermare l'assessore Gnoffo insieme all'avvocato Caffà che sarebbero entrati in giunta e la consigliere Caruso avrebbe ricoperto un ruolo di prestigio all'interno di un'azione governativa. tutto ciò è saltato perché Caffà non è diventato assessore e più Forza Italia non è stato chiamato è stata prevaricata nel suo ruolo sia il capogruppo che il segretario e l'onorevole Manguso si è incontrato in separata sede con il sindaco e hanno deciso che doveva continuare l'azione l'assessore Gnoffo quindi l'hanno fatto senza consultare nel Caffà, nella Caruso, nel consigliere di Dio che era garante di tutta questa situazione. Quindi lì manca proprio la democrazia, là si rompe il tutto non perché la Caruso doveva fare l'assessore quindi automaticamente questo non è vero. In conclusione adesso Luigi di Dio che cosa farà in consiglio comunale? Qual è la posizione che Luigi di Dio assumerà in consiglio comunale? Ma io ho detto l'altro ieri quando ci siamo incontrati con Manguso e Pepe ho detto che è inutile che volete additare Luigi di Dio che ha scelto percorsi politici differenti. Di Dio Luigi lascia Forza Italia perché deve continuarsi a guardare lo specchio la mattina perché ha una dignità e rispetto per gli impegni presi. Se voi gli specchi più a casa non ce li avete è un problema vostro. Io sarò indipendente, valuterò se rimanere in maggioranza oppure no, con i miei amici ci confronteremo in questi giorni e valuteremo se si può continuare un percorso con questa amministrazione oppure no.